Bentornati a tutti sul mio canale, io sono Majin Boobs e si è appena concluso, diciamolo, show match, il torneo, non è stato proprio un torneo, tra gli Italian Corp e il miglior team giapponese attualmente presente al momento. In realtà ecco, doveva essere una sfida team, ma Kezuke, o Kesuke, come preferite chiamarlo, ha praticamente fatto un 7-0 su tutti i player dell'Italian Corp. Ora, questo video sono le mie considerazioni a caldo su questo match che si è appena tenuto. Non voglio cercare scuse per gli C, non voglio sminuire assolutamente la vittoria di Kesuke, perché devo dire che se l'è decisamente meritata, ma voglio un po' parlare di quello che è successo durante questi match e soprattutto voglio discutere un po' con voi le regole dello sparring, che a mio parere stanno invecchiando malissimo. Anzi, a proposito di questo argomento, vi rimando a un video che troverete qua sotto in descrizione, fatto da Enfire, o aka Dani, che ha trattato l'argomento in maniera parecchio approfondita già qualche settimana fa, quindi guardate qua sotto se volete saperne di più e andate direttamente sul suo canale. Ma parliamo di quello che è successo. Facciamo una premessa, da cosa è nato questo match? È partito tutto dal fatto che Kesuke, dopo essere arrivato secondo nell'ultima season del PvP, quella a RP per 3, quella tanto odiata da tutti, si è messo, diciamo, ad accusare Bebop, ovvero il vincitore di quella season, di sniperare, di utilizzare degli exploit per poter vincere facile, per poter accumulare RP in un modo più semplice del previsto. Ha ragione Kesuke, ha ragione Bebop, questo non lo sapremo mai, non ci sono prove a riguardo e nemmeno voglio andarne a cercare. Sta di fatto che dalle varie accuse mosse da alcuni giocatori verso Kesuke, è nata tutta questa diatriba, che si è conclusa esattamente una mezz'oretta fa, in questo match a team, con le regole dello sparring. C'è stato qualcosa di strano in questi match, poca roba devo dire in realtà. Mi spiace molto per Kine, perché praticamente in entrambi i match dove stava effettivamente vincendo, o era in una situazione di parecchio vantaggio rispetto all'avversario, ci sono state disconnessioni. Anche qua non c'è modo di poter incolpare direttamente Kesuke per una disconnessione volontaria, perché come avrete visto anche voi, anche semplicemente giocando contro di me nelle mie live, capita raga anche nel friend battle che la connessione dei server ceda e si concluda il tutto con un nulla di fatto. Quindi chi ne avrebbe potuto vincere, questo non lo sapremo mai. Quello che sappiamo è che in tutti gli altri sei match che si sono tenuti, devo dire che Kesuke, tranne un match perso contro Rage, non è mai andato in situazione dove ha veramente rischiato di perdere. Se l'è giocata benissimo, ha vinto meritatamente tutti gli altri match, utilizzando tra l'altro sempre lo stesso team, ovvero il team Goku, composto da Kakarot. Goku Kid Zenkai ha sette pannelli, Goku Super Saiyan 4 e Fitku. Non ha mai utilizzato personaggi diversi, non ha mai utilizzato team differenti. Tutti i membri dell'Italian Corp ce l'hanno messa tutta per tenere alto l'onore. Abbiamo assistito a ottimi match, devo dire, alcuni più, alcuni meno, ma nel complesso il livello di gioco è stato molto 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 alto per tutta la durata di questi show match. Allora, cos'è che non mi è andato giù e di cosa mi vorrei lamentare in questo video? Le regole dello sparring, raga. Non è la prima volta che ne parlo e non è la prima volta che me ne lamento, perché credo e son convinto che snaturino fortemente il gioco. Per chi non lo sapesse, le regole dello sparring sono queste qua. Non si può utilizzare Rising Rush, non è consentito mettere il feint all'avversario, o meglio, attaccarlo quando è in feint, quindi se per caso dovesse entrare un feint o lo si toglie con un blastino oppure si attende la fine del feint, appunto. E con queste due sono anche abbastanza d'accordo, ma la terza regola fondamentale sulla quale proprio non sono d'accordo è il ban di tutti i personaggi Zenkai tranne Goku Kid. Ecco, mischiate insieme tutte queste cose e penso che già così possiate capire un attimo quanto sia nonsense questo mix di regole. Ci ritroviamo praticamente con un team, quello di Goku Kakarot, che non ha praticamente personaggi in grado di counterarlo. Abbiamo un personaggio a 14 stelle, con 7 pannelli di Zenkai completamente solbustati, 4 unique ability, abilità di endurance, ultimate con l'anti-endurance, velocità di pescata maggiorata, funziona anche da support. Statistiche assolutamente dopate rispetto a qualsiasi altro personaggio presente nel gioco. Team Saiyan, che potrebbe essere anche abbastanza facilmente counterato dal lineage of evil, non si può usare il lineage of evil, perché il Kura Zenkai è bandito da questo genere di competizioni. Sarebbe anche giocabile volendo con Freeze LF, il team lineage of evil, sì, ma stiamo parlando di un personaggio LF, appunto, ma soprattutto un personaggio viola, che viene completamente obliterato, completamente sciolto, completamente smolecolato, sempre da questo Goku Kid Zenkai. Gli si potrebbero fare danni grossi con la combo Feint più Kamehameha di Kakarot Rosso, ma sempre nella teoria, perché, come dicevo prima, il Feint è vietato, quindi non si può attaccare un avversario che sia sotto Feint. Non gli si può tirare il Raising Rush, perché il Raising Rush è vietato. Se in modalità Ranked, il team Goku Kakarot è un team che sì, dà dei grattacapi, ma è comunque affrontabile in modalità Sparring, è praticamente un team al limite dell'illegale. Abbiamo visto da parte degli EC, praticamente, qualsiasi genere di line-up per tentare di counterarlo, non ha funzionato nulla, raga, praticamente non ha funzionato nulla. Già portarsi un personaggio viola contro diventava quasi giocare con un personaggio in meno, perché, ripeto, venivano demoliti nel giro di veramente pochi timer count. Una combo completa di Goku Kid equivaleva alla morte di un personaggio viola qualsiasi. Indipendentemente dal numero di stelle che questo aveva. Gli unici personaggi che effettivamente riuscivano a counterarlo sono stati Gotenksevo, ma anche lui soffre gravemente lo Sparring per via del limite di timer count della trasformazione. Quindi buono per 40 timer count, ma lo Sparring è tutt'altra cosa rispetto alle Ranked dove i match sono brevi ma intensi. Nello Sparring quasi sempre si arriva a far passare anche più di 120 timer count prima di ottenere una vittoria, se non anche di più. Quindi capitemi che tenere Gotenks al suo massimo potenziale diventa molto molto complesso, perché dopo 40 timer count di utilizzo la trasformazione finirà e Gotenks inizierà a fare molti meno danni rispetto a prima. Un altro personaggio in grado di counterarlo lievemente è stato Rosé, ma anche per il team Godki stiamo parlando di un team performante sì, ma fino a un certo punto comunque c'ha parecchie unità datate al suo interno e pochi buff offensivi rispetto ad altri team più performanti attualmente. Purtroppo nessuno degli IC che hanno partecipato a questo match disponevano a loro volta di un Goku Kide Zenkai a 7 pannelli, probabilmente perché non l'avevano farmato nel momento che era disponibile. E questa cosa ha praticamente segato le gambe a tutti quanti. Mi viene in mente magari Kiza che ha iniziato questi match, se l'è giocata benissimo, ma aveva un grosso svantaggio, ovvero quello di utilizzare il team female, dove il personaggio rosso a sua disposizione era la 18 Red. Come sapete tutti, sì, fa buone cose, ma non è assolutamente il personaggio più indicato a fare danni. Praticamente faceva danni quasi negativi su Goku Kide Giallo. Tassello forte del team è la 21 pur. veniva smolecolata da una combo di Goku Kide Zenkai. Qualsiasi match visto era un po' come cercare da battere un muro utilizzando una cannuccia di plastica. Tutti i personaggi di Kesuke tankavano come dei pazzi e i vari personaggi che si trovava contro, nonostante vari buff, combo e tutto quanto il possibile per far danno, ne facevano veramente veramente pochi. è stata una vera e propria disfatta su tutti i fronti. Quindi mi viene molto da pensare riguardo a queste regole dello sparring che dovrebbero essere state create per dare la massima competizione durante un match, evitare che chi spende di più possa avere un qualche vantaggio sull'avversario, anche se in realtà resta comunque così, visto che le stelle rosse più se ne hanno e più ti danno vantaggio. E anzi, non hai un modo per toglierti di mezzo personaggi ultra stellati con il Rising Rush. Inoltre, il voler bandire i personaggi Zenkai tranne Goku Kid è stato a mio parere uno sbaglio enorme per tutti i motivi che vi ho appena detto. Perché praticamente questo personaggio qua non aveva la minima possibilità di essere counterato da nessun team esistente nel meta. Cosa che poteva decisamente cambiare se ci fosse stato disponibile il team lineage of evil. Quello è realmente l'unico team che può essere in grado di counterare questo team Goku. Anche nella modalità sparring. Ora, non sto dicendo che Keske abbia vinto unicamente perché utilizzava quel team lì. Ripeto, ha giocato benissimo e si è meritato gran parte delle vittorie ottenute. Ma è impossibile per me non sottolineare il fatto che anche molti ragazzi degli EC abbiano giocato veramente bene ma semplicemente non avessero la minima chance a questo punto di poter eliminare i personaggi avversari che utilizzava Keske. Perché proprio mancava il team fondamentale per poter battere questo team di Goku, team Saiyan. Sicuramente non sono a favore del poter utilizzare il Rising Rush illimitatamente come magari poteva essere nel torneo Showdown in Las Vegas ma al tempo stesso non sono nemmeno d'accordo sul fatto di eliminarlo completamente. Non sono d'accordo sul fatto di bandire tutti i personaggi Zenkai che non siano free to play. Anche perché attualmente ne esiste uno di personaggio Zenkai free to play. E mi sembra assurdo che chi possa utilizzare quel team abbia praticamente la vittoria in tasca. Mentre chi non ha farmato Goku Kid Zenkai si può letteralmente attaccare. Penso che questo voler bilanciare il gioco da parte dei giocatori stessi stia portando molto più sbilanciamento rispetto a quanto faccia il team di sviluppo di Dragon Ball Legend stesso. Perché quello che ho visto non è stato un torneo bilanciato. È stato un torneo all'insegna del team Goku. Dove per i ragazzi degli C bastava sbagliare veramente un minimo per perdersi poi i personaggi in una combo una combo e mezza. E dove non avevano la minima possibilità di far fuori il perno principale di questo team ovvero Goku Kid Zenkai. Ora sperando che qualcuno di voi abbia visto i match sicuramente parecchia gente c'era. Leggevo un sacco di gente italiana tra la chat e nei commenti. Purtroppo ho letto anche cose decisamente poco belle sia verso i giapponesi ma sia anche verso gli stessi C. e mi verrebbe da dire raga se siete tanto bravi e ve la sentite tanto calla provateci voi a battere kesche. Ma in ogni caso vorrei sapere il vostro parere non tanto su come sia andato l'esito del torneo ma più che altro su questo discorso sparring sì o sparring no. Perché quello che ho visto ripeto non è stata una competizione sana e bilanciata. È stata una competizione completamente sbilanciata verso un unico team presente nel gioco. Mi è sembrato quasi di rivedere i vecchi tempi non belli a mio parere dell'Holly Trinity dove se avevi quel team e ti entravano più critical dell'avversario vincevi mentre se non avevi quel team non avevi praticamente alcuna chance di poter ribaltare il risultato perché ti trovavi contro un team decisamente troppo dopato rispetto a quello che potevi utilizzare tu. Ci terrei anche magari a sentire i pareri dei diretti interessati che hanno partecipato al torneo o comunque dei vari giocatori che giocano competitive e sentire anche possibili idee su come poter migliorare le regole dello sparring. Perché ripeto giocare senza nessuna regola è un attimino esagerata come cosa ma pure giocare con tutte queste regole ferre e restrittive fanno risultare il gioco molto 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 più monotono rispetto a come siano i match delle Ranked quindi commenti qua sotto io vi mando un bacione a tutti e ci vediamo al prossimo video.